Nuovo fine settimana, ci colleghiamo con Trebi Meteo e con Nikos, che ho detto per vedere le previsioni del tempo per Lecco e provincia. Buongiorno Nikos, cosa ci aspetta dal weekend? Bentrovati a voi. Sarà un fine settimana in realtà abbastanza bello sulla provincia di Lecco, ma anche Como. Un sabato di cieli seregno poco nuvolosi, tempo soleggiato dappertutto, tra l'altro le temperature un po' fredde di notte con minime che scenderanno anche sotto i 7 gradi, ma le massime di sabato pomeriggio toccheranno i 15 gradi anche all'eco città. Per quanto riguarda invece la giornata di domenica, non ci saranno grossissimi cambiamenti se non un po' di nuvolosità di partaggio. Quindi la giornata di domenica vedrà della variabilità tra schiarite e annuvolamenti a tratti un po' compatti in mattinata, però ecco sulla provincia di Lecco non prevediamo piogge. Invece poi ci sarà una nuova settimana che sarà ancora all'insegna del tempo stabile. Sì, diciamo che almeno la prima parte di settimana fino a mercoledì vedrà stabilità su tutta l'Alta Lombardia. Quindi non prevediamo piogge, si apre un periodo un po' più tranquillo e quindi insomma anche la prima parte della prossima settimana, almeno inizialmente, sarà abbastanza bella con un po' di sole. Grazie Nikos che ho detto, buon fine settimana e buon lavoro. Grazie a voi, buon weekend.